Benvenuti a tutti ragazzi, noi siamo Agix Real e oggi sono qui per fare questa piccola intro di tutta la settimana per spiegarvi cosa faremo. In questa settimana abbiamo deciso di fare un video al giorno in cui vi faremo vedere un trucco di magia e nella prossima settimana vi faremo vedere tutti i tutorial. Quindi lunedì uscirà un video su un trucco e lunedì prossimo ne uscirà il tutorial. Questo perché? Perché devo dare un senso al nostro nome del canale, ci chiamo Magix Real per un motivo, facciamo magia. Siamo andati con la magia e dobbiamo continuare con la magia. Questo diciamo un po' per dare un senso al nostro nome del canale. Che cazzo dico? Niente, perché è finito. Non lo so neanche io cosa dire, quindi vabbè lasciamo io al video che forse è meglio. Jack, dove cazzo l'hai messo? Fondato col Titanic. Cogliorno. Ah ma sta registrando? Eh già. Dimmo prima. Dimmo prima. Gli occhi da morti. Io no, io non gli occhi. Allora io prendo una mazza. Una mazza. Una mazza. Questa carta. Vabbè. E tu ne prendi un'altra. Se la prendiamo la stessa. Io la prendo a caso eh. No, 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 che caso. Allora, poi riesco. Quante ne prese? Allora, se è successo io mi sparo sui coli. La carta è rossa o nera? Rossa. Cuore o quadri? Cuore. Figura o numero? Numero. Pare o dispari? Dispari. Cazzo. No. Stavo per riuscire l'impossibile. Vabbè sta prendendo pure la tua. Vai rifaciamolo. Stavo per riuscire. Cuore, cazzo no. Mi ripresi ho 4 da tu cuore. Ok. Rosso o nera? Nera. Fiori o picca? Fiori. Figura o numero? Numero. Pare o dispari? Pare. Alto o basso? Mi. Sei? Sì. Lotto. Dai. Fondato un po' riesce, no? Così. Senza far domande. Al mio 3. Oh! Che cazzo dici, fra? Io ce l'ho questo. Io ce l'ho. Allora ci sono stati i fail dell'inizio. Poi c'è stato il colpo di scena dopo. Adesso c'è l'intro. Benvenuti a tutti ragazzi. Noi siamo Magic Strial. Ragazzi, come te? Come tornate a un nuovo video? Siamo qui dagli ragazzi per dare il via alla settimana magica. Allora, questa settimana magica... Ma, 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 ma qua devi guardare poi, non la... Questa settimana magica consiste praticamente in un giorno al... Un video al giorno... Un video al giorno... Un video al giorno... Sto ancora dormendo. Un video al giorno dove faremo delle magie. E la settimana dopo facciamo il tutorial? Esatto. Se noi oggi facciamo... Adesso non so neanche che magia fare io. Nemmeno io. Allora, la settimana dopo, cioè la prossima per voi, lunedì, ci sarà il tutorial delle magie che faremo oggi. Marta di... Così via. Questo per dare un senso al nome del nostro canale. E non so se prima o dopo uscirà una compilation. Puttate. Dopo. Iniziamo, inizio tu, inizio io. Inizio tu. Il suo gioco si chiama il gioco delle tre possibilità. Tre possibilità, perfetto. Dimmi stop in un punto qualsiasi. Stop. Ok, vai a prendere. Guardata, falla guardare in camera. Fatta. Ok, metti l'alli. Cos'era? È uscito malissimo. Allora, allora... Anzi, no. Prima di andarla a cercare, la vado a disperdere. Vuoi mischiare anche tu? Ma sì, vai. Ok. Non l'ho mai fatta sta cosa, quindi... Tazzo che non esce. Tanto te lo ho capito. Allora, vado a prendere tre carte. Sì, signor. E penso che siano la tua. Non voglio rovinarmi la suspense. Mettiti un po' più giù, almeno si vede. Ma quanto sono unite. Fai due, sì? Aspetta un attimo, ancora non è deciso. No. Stai facendo salire l'ansia. No, perché guarda. Ce la fai? No. Non capisco se è finzione o stai sbagliando veramente. Vabbè, ci provo. Per me... È questa. No. Proviamo con questa. No. Proviamo con questa. E no. È simile. Ebbè. Vedete. La donna quanto vale undici di tipo, eh? Provo a contare undici. Vuole dodici. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Dodici. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Quanto scommetti la dodicesima? Ah. Svegliato. La dodicesima. È la donna di fiori. Vabbè. La parte fila ci sta. Non pensavo che valessi le dodici. Già che vale undici. Eh, non lo sapevo! Ora tocca a me. Tieni. Mescola. Già che ti faccio mescchiare già sono un mago nostro. Giusto? No. Vuoi mescolare ancora? No. Ah, mescolare ancora? No. No, sicuro? Sì. Ok. Allora, per questo gioco tu hai tirato fuori quattro donne. A me servono tutte quante le figure. Quindi vado a tirare fuori le figure. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Cinque. Sei. Sette. Oto. Nove. Dieci. Mi sono persi due. Devo. Ok. Non riesco a prenderla da solo. Controlla che non ci sia la firma di Kuti. No, non è la firma di Kuti. È la firma che ho fatto io. Allora, queste carte non ci serviranno più. Ora, come vedi, sono mescolate... Tra tutte quante le carte, vado a distribuirle a due a due, ok? Quindi c'è una e due, ok? Poi una, due. E così via, no? Ok? Guarda cosa mi basta fare. Mi basta aspettare, squadre, come erano mischiate fra di loro, no? Mi basta prenderla a due a due. L'ho imparato stamattina. Questo era il video. Se a questo vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e con il quale vi iscrivetevi. Aspettate un lunedì prossimo per vedere il tutorial. Nel frattempo domani potetevi altre magie. Se a questo vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e con il quale vi iscrivetevi. Passatevi attenzione ai nostri piaciuti di Instagram, tutti quanti. Non mi piace la visione e ci do un prossimo video. Bella.